La nostra interrogazione, prima però un messaggio di pubblica utilità, le buste paga a gennaio saranno esattamente quelle di dicembre, non ci sarà alcun aumento di 100 euro, come sentito adesso. La nostra interrogazione muove ovviamente dalla telefonata che è intercorsa a fine settembre, 18 settembre, tra lei e chi lei riteneva fosse il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Non mi soffermo su quel contesto perché è stato detto tutto in queste settimane, così come non credo sia questo il contesto in cui, come posso dire, chiedere come sia potuto accadere, anche se ovviamente è una domanda che ci interessa. Ma rischieremo ovviamente di rendere labile il confine tra elementi di grande preoccupazione per l'interesse della sicurezza nazionale e elementi tragicomici, modello ambasciatore del Catonga. Quindi preferisco invece entrare nel merito delle cose che lei ha detto, presidente, in quella telefonata, perché devo dire la verità, la Meloni al telefono ci è piaciuta molto. Ha detto delle cose che riteniamo giuste, importanti, quelle che stiamo dicendo noi del Movimento 5 Stelle da molti mesi. Lei ha detto che bisogna trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti e noi riteniamo che sia davvero la strada da percorrere. Però c'è una Meloni al telefono e una Meloni in presenza, quella che invece nelle aule parlamentari, in consensi internazionali, dice il contrario. A dicembre ironizzava sul fatto che noi dovevamo proporre reddito di cittadinanza ai russi per farli ritirare, ma il 13 maggio disse scommettiamo sulla vettoria dell'Ucraina. Ma anche oggi le ricostruzioni di ciò che è accaduto nel G20 di ieri, quando Putin, il dittatore Putin, dice dobbiamo mettere fine alla guerra, lei dice l'unico modo è che la Russia si ritiri. Allora anche i miei figli si rendono conto che c'è una discresia enorme tra il sostenere che una via d'uscita accettabile per ambole parti è l'unica strada e ritenere invece che la Russia deve ritirarsi e in questo sarà l'unico modo per far fine alla guerra. Allora la domanda che sorge spontanea è qual è la meloni vera, quella al telefono o quella in presenza? Lei pensa alle cose che ha detto quel giorno al telefono o conferma invece la linea che ha mantenuto sempre nell'area istituzionali? Ultima questione, lei dice un'altra cosa importante, ho alcune idee su come gestire questa situazione. Intanto festeggiamo la prima parte della frase che ha alcune idee, vorremmo anche capire quali, e forse questo è il contesto in cui dire quelle idee e rendere note le sue posizioni alle aule parlamentari. Grazie. Presidente Meloni, a tre minuti soltanto. Collega Patronelli, anche io non torno sulle ragioni e sugli errori che hanno purtroppo consentito a due comici russi di spacciarsi per il Presidente dell'Unione Africana, sono state ampiamente oggetto di approfondimento. Invece utilizzo il mio tempo per risponderle molto volentieri sui contenuti della telefonata. Banalmente perché io sono fiera di aver dimostrato ancora una volta la coerenza delle posizioni mie e del governo italiano in tema di politica estera e sono fiera di essere lontana anni luce dal modello di chi prima di me si mostrava condiscendente in privato salvo poi mostrare i denti a favore di telecamera o votava il sostegno militare a Kiev finché si trattava di mantenere il proprio posto al governo per poi decidere di sostenere che non andasse più aiutata Kiev quando è passato all'opposizione per guadagnare consenso facile in questo caso però questo consenso facile si guadagna sulla pelle e sulla libertà di una nazione sovrana. Ora vede io in quella telefonata ho detto quello che tante volte ho ripetuto anche in questo Parlamento ho detto punto primo che noi siamo a fianco dell'Ucraina l'ho ribadito anche in quella telefonata ho detto che cerchiamo una pace giusta ho detto che cerchiamo una pace giusta in linea con il diritto internazionale e che siamo pronti a fare le nostre proposte che chiaramente nel caso confronteremo anche con il Parlamento quando dovessero esserci i margini per quella pace giusta il punto sul quale io e lei e voi non ci capiamo è che per arrivare a un'opzione di questo tipo l'unico modo come io ho detto decine di volte in quest'aula parlamentare è mantenere un equilibrio tra le forze in campo che vuol dire sostenere l'Ucraina perché se noi avessimo fatto quello che qualcuno ci chiedeva in quest'aula e cioè smettere di sostenere l'Ucraina noi purtroppo non avremmo avuto una pace come qualcuno va dicendo in giro noi avremmo avuto un'invasione un'invasione non si chiama pace e io non sono così cinica da scambiare le due cose e quindi continuo a ritenere che l'unico modo possibile per arrivare eventualmente anche a una soluzione diplomatica del conflitto è sostenere l'Ucraina è quello che ho detto in quest'aula è quello che faccio è quello che ho ribadito all'interno di quella telefonata e questo non vuol dire che io non mi renda conto della difficoltà che c'è anche nella nostra opinione pubblica ho detto anche questo e anche questo l'ho sostenuto all'interno di queste aule parlamentari anche questo ha fatto molto discuto io sono perfettamente consapevole della stanchezza dell'opinione pubblica perché ascolto la gente perché sono capace di farlo quello che fa la differenza tra la mia scelta e altre scelte è che io penso che la responsabilità della politica sia guidare la società e non rincorrerla e non mi stupisce che persone che non hanno gli stessi elementi che ho io per giudicare possano fare valutazioni diverse che persone che non hanno chiaramente sulle loro spalle le decisioni che in qualche maniera compromettono il destino di una nazione possano fare altre valutazioni io ritengo in coscienza di dover fare le mie per le responsabilità che ho ed è quello che sto facendo ma questo non vuol dire che non capisca gli italiani anche quando dicono ma nella condizione in cui siamo possiamo davvero permetterci di fare quello che stiamo facendo io continuerò a essere convinta che noi aiutando e sostenendo gli ucraini stiamo difendendo il nostro interesse nazionale ma ho detto anche in quest'aula l'ultima volta che sono venuta prima del Consiglio europeo se lo ricordate se siamo intellettualmente onesti che proprio perché sono consapevole delle difficoltà che le nostre società stanno pagando noi non potevamo ad esempio in Consiglio europeo sostenere la tesi che pure altre nazioni sostengono per la quale il bilancio pluriennale la revisione del bilancio pluriennale si potesse rivedere solamente per l'Ucraina se non eravamo in grado anche di mettere risorse sulle conseguenze che le nostre società stanno pagando per il conflitto in Ucraina e quindi che cosa ho detto? Ho detto che sono consapevole della situazione per cui guardi anche stavolta a prova di telecamera non c'è una Meloni in privato e una Meloni in pubblico quello lo abbiamo visto altre volte c'è una Meloni che dice sempre quello che pensa che lo dice con chiarezza che lo dice con lealtà e che per questo consente all'Italia oggi di essere rispettata e di essere ascoltata come purtroppo non è stata quando la guidavate voi la ringrazio grazie senatore Battuanelli due minuti grazie presidente ma la prima cosa che mi è venuta in mente non ho capito se quando ci chiedeva di dare mille euro con un click a tutti gli italiani lei stava guidando o subendo la società o seguendo la società però non c'è molto tempo per approfondire questo argomento io devo dire che mi sento particolarmente soddisfatto dalla sua risposta perché la domanda voleva ovviamente evidenziare le contraddizioni che sono emerse anche adesso perché lei continua a sostenere che ciò che ha detto in quella telefonata ripeto bisogna trovare una via d'uscita accettabile per entrambe le parti è coerente col dire col dire scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina queste due cose sono in totale contraddizione dopodiché ricordo che una volta è stato votato l'invio delle armi due settimane dopo lo scopo della guerra siamo stati i primi a dire che in quella fase era necessaria si può avere un'opinione diversa su quale è la strada il problema è che la strada del continuo armamento è un fallimento nei fatti perché non ha portato alcun risultato proviamo un'alternativa non siamo certi che smettere di armare l'Ucraina porti alla pace automaticamente ma almeno proviamola perché nel frattempo la gente continua a morire e nel nostro paese continuano anche ad esserci problemi economici legati a un conflitto molto importante che è ancora in corso vede Presidente io credo che sia mancato una cosa invece e mi dispiace molto perché in quella telefonata certi elementi c'erano è mancato il coraggio è mancato il coraggio di dire quelle cose pubblicamente nei tavoli internazionali perché forse non si vuole infastidire nessun alleato credo che bisogna invece avere il coraggio di difendere gli interessi della nostra nazione non nelle telefonate private ma nei consensi internazionali e credo che soprattutto per chi si professa patriota non farlo è piuttosto surreale grazie grazie a tutti